The Giacal presenta Come eravamo e... Come siamo! Come eravamo! Fratelli, gli uomini di Alba Longa hanno invaso le nostre terre! È guerra! Sì! Guiderò la battaglia a costo di morire! Non ho paura! Seguitemi! Come siamo! Mamma, vuoi chiamare tu le pizza? Io mi metto paura! Gianluca, a 30 anni c'hai paura di chiamare le pizza! Come eravamo! Sorella, un dardo nemico ti ha colpita! Aspetta! Non ho sentito nulla! Come siamo! Ma non ho ancora tirato! È fredda! Ma guarda che è calda! Allora è calda! Senti, io vado! Come eravamo! Madre Vesta mi ha parlato attraverso il fuoco sacro! Sei uomo valoroso! Ne sono orgoglioso! Come siamo! E tu di che segno sei? Scorpione! Si vede! Da che cosa si vede che sono scorpione? Tipica reazione da scorpione, tutti uguali! Ma tutti uguali che co... Come eravamo! Ecco a te, il tuo settimo figlio! Proprio il giorno del tuo sedicesimo compleanno! Questa responsabilità è un dono! Come siamo! Frum hai fatto morire la piantina che ti abbiamo regalato! Vabbè, però un po' è durata stavolta! Ma ieri te l'abbiamo regalata! Ma non potete darmi tutte queste responsabilità a me! Ma è finta! A me mi dà delle piante! È finta! Ho capito che è finta! Non lo so come si sarà a suicidare! Come eravamo! E dopo due mesi di cammino tornerò con la risposta, Cirus! Aspetterò anche a Neruzus! Che gli edei mi siano testimoni! Come siamo! Cioè, le ho scritto tre minuti fa, ancora non mi risponde! Ciro! È buono, dai! La tese è la cosa più difficile! Ma è online da cinque minuti! Shhh! Come eravamo! Un branco dei lupi si avvicina al villaggio! Come siamo! Il villaggio è uno scarafaggio! Come eravamo! Siamo! No, grazie, il prezzemolo mi gonfia! Come eravamo! Frus, vedo che le tue ferite stanno guarendo! Porto notizie di grande giubilo! Prendono in sposa Clara il prossimo solstizio d'estate! Ecco la pergamena con l'invito! Ah, il problema, il dolore al ginocchio! Non posso venire! Non è riferito al braccio! Pure il braccio! Non temere, Ruzzus! I figli dei tuoi figli saranno migliori! Coraggiosi! Valorosi! Audaci! Come siamo! E questo è l'invito al mio matrimonio! Ah, che dolore nel braccio! Improvvisamente un dolore! Un dolore! Un dolore! Un dolore! Tipico scorpione! Ma che ne sai che sono scorpione? Ma che cento? Mi fa male il braccio! Sono scorpione! Ma quale acquario? Ma uno che ne sai? Quello si deve sapere l'orano! Uno che ne sai? Fatti, fatti due! Ciao ragazzi! Tra due mila anni qui ci sarà un pulsante per iscrivervi al nostro canale! Premetelo, iscrivetevi! Mi piace! Cos'è un canale? È un fiume! Ah, iscrivetevi al nostro fiume! Stop!